Ehi, signor Dio, mi dispiace essere andato a letto con sua moglie. Non sapevo che fosse sposata, giuro su... Beh, su lei, credo. Aspetti. Poteva... Poteva vedere Charlotte e me mentre stavamo... Non preoccuparti, Daniel. Tutto è come dovrebbe essere. Beh, è una bella presa. Sì, forse dovremmo... Ah, mi sta facendo male. Mi lasci! Oh mio Dio! Ma che succede? Non osco i miei diritti. Volevi farlo davvero? Certo che volevo rimetterlo insieme. Non voglio modi misteriosi adesso. Hai fatto esplodere un uomo. Mi sembra che stia benissimo. Nessun danno, nessun affanno. Decisamente danno e affanno. Papà, devi andartene. Il tuo stare qui sulla terra mette in pericolo le persone a cui tengo e altri. Ehi, Ella ha un cadavere in centro. Le ho detto che saremmo andati. Splendido! Lascia che mi liberi di mio... Cosa? Dov'è? Il tempo si è fermato mentre non guardavo? Veramente credo sia accaduta una cosa molto più eclatante. Credo che per la prima volta in assoluto mio padre mi abbia ascoltato. Il tempo si è fermato. Il tempo si è fermato. Il tempo si è fermato.